Per acquistare il grano italiano basta pagare il giusto prezzo agli agricoltori e arginare così il balzo dei prezzi della pasta che può essere affrontato con un'adeguata programmazione. Ad affermarlo è la Col di Rettipuglia. Sentiamo. Il balzo dei prezzi della pasta può essere affrontato con un'adeguata programmazione che consenta di aumentare la produzione di grano duro made in Italy in una situazione in cui il paese importa circa il 40% del grano di cui ha bisogno con un evidente scontato aumento dei costi a carico dell'industria molitoria. È necessario anche il pagamento del giusto prezzo del grano italiano agli agricoltori e quanto segnala la Col di Rettipuglia. Il grano italiano viene sottopagato a prezzi inferiori di quello estero. Nonostante questo molte industrie hanno infatti preferito continuare ad acquistare per anni in modo speculativo sul mercato mondiale anziché garantirsi gli approvvigionamenti con prodotto nazionale attraverso i contratti di filiera sostenuti anche dalla Col di Rettipuglia. Una situazione che precisa la Col di Rettipuglia regionale ha costretto gli agricoltori italiani a ridurre le superfici coltivate e a cercare mercati alternativi che riconoscono prezzi più equi. La Puglia è il principale produttore italiano di grano duro. La domanda di grano 100% made in Italy si scontra con gli anni di disattenzione e abbandono che nell'ultimo decennio hanno portato alla scomparsa di un campo su cinque dopo con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati con effetti dirompenti sull'economia, sull'occupazione e sull'ambiente. La Col di Rettipuglia regionale sottolinea anche che un segnale importante viene dal moltiplicarsi di marchi di pasta che garantiscono l'origine nazionale al 100% del grano impiegato, impensabile fino a pochi anni fa. Ci sono quindi le condizioni per rispondere alla domanda di italianità dei consumatori e investire sull'agricoltura nazionale che è in grado di offrire produzione di qualità realizzando rapporti di filiera virtuosi con accordi, conclude la Col di Rettipuglia, che valorizzino i primati del made in Italy e assicurino la sostenibilità della produzione in Italia. Grazie. 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 Grazie.